Allora, prima delle premiazioni facciamo una cosa particolare, io ho preparato anche la traduzione perché poi sennò mi emoziono. Allora, Raffaele, provo a dirlo in francese, ascolta se lo dico bene. Allora, prima di procedere alla recompensa di due categorie, gentlemen e pro, noi vogliamo rendere hommage all'equipe che viene da l'Angleterra, composta di piloti che sono chacere handicappi a loro maniere. Allora, adesso mette lo facciamo in inglese. Allora, prima di procedere, sono davvero scusate per il mio inglese. Ho cercato di imparare l'angleterra durante questa 24 ore, probabilmente senza risultati. Ma ora, prima di prendere l'avvento delle due categorie, gentlemen e pro, vogliamo honore il team che viene da l'Angleterra, preparato di piloti, siamo tutti disabili in loro modo. Sì, ragazzi, sul pòdium. adesso per gli italiani, questo non era un team, è solo un gruppo di leoni. Ognuno di loro disabile a seguito di un incidente. Allora, allora, qui? Giusti, ragazzi, non iniziti a immagini di dormire, ora. Angelo. Eccoli qua il Cart Force Team. Prima di andare Volevo leggervi Magari non ci avete fatto caso Marco posso passare un attimo? Please Turn Qui c'è scritto You don't need all of your rhymes to race Just British Bulldog Bowls Five guys with British Bulldog Bowls Honored to stay with you during the race You are really an example Altre tanto per i ragazzi Jeff You have to tell something to the Italian people To the Swiss people To French people To Belgian people For us It's A way of Leaving everything out of time And just focus on Racing And not the things that are wrong with us Adesso voglio vedere chi traduce Non sono venuti qua preoccupati della gara Sono venuti qua per divertirsi Non per il risultato Ma semplicemente per stare con voi Ancora una volta From England From England The Carter Force Non per il risultato Non per il risultato To the music Giuseppe That's it Who have to tell you Ancora una volta Grazie.